La solita blasfemia è l'accusa più pericolosa e semplice da rivolgere a un essere umano, sia esso uomo, donna o bambino in Pakistan. Questa volta la folla, oltre 200 persone, ha picchiato a sangue, poi bruciato a morte, un musulmano, perché sospettato di aver dissacrato alcune pagine del Corano, teatro dell'omicidio, il villaggio di Seetan, nel distretto di Sint. La vittima, non ancora identificata, era in stato di fermo per un'accusa di blasfemia nella stazione locale di polizia, quando l'orda ha fatto irruzione e trascinato via l'uomo per farsi giustizia da sola. Secondo alcune ricostruzioni, l'uomo era di passaggio nel villaggio. Due giorni fa, la vittima aveva chiesto ospitalità per la notte nella moschea. Qui ha pregato e dunque dormito, quindi la mattina seguente alcuni fedeli hanno trovato alcune pagine del Corano bruciate. Sospettando che il viaggiatore fosse responsabile, lo hanno portato dalla polizia e denunciato per blasfemia. Quindi, la follia collettiva, con l'esecuzione pubblica, il commissario locale ha fatto sapere che 10 poliziotti presenti sono stati sospesi e denunciati per negligenza, mentre le 200 persone sono state denunciate per omicidio e ostruzione e resistenza pubblico ufficiale.